mi ha scritto una persona e mi ha detto caro don francesco dacci sempre la benedizione del signore perché abbiamo bisogno di essere benedetti ed eccomi qui anche questa sera al fine di questa giornata per darci la buonanotte per scambiarci il dono della pace per augurarci ogni bene e per dire che domani è un altro giorno ma soprattutto per ricevere la benedizione di gesù ringraziamolo sempre il signore per la sua presenza nella nostra vita e per tutte le meraviglie che compi nella nostra vita e non agitatevi se c'è qualche prova con la preghiera quella prova diventa più sopportabile e il signore apre vie che noi neanche possiamo immaginare il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo buonanotte a tutti e a domani grazie a tutti